duniziani oggi giochiamo a nascondino esatto gabri tu adesso praticamente io me ne andrò via da questa stanza tu sarai da solo poi dopo ritornerò su e praticamente ti dovrai nascondere io parlerò da solo con i duniziani per un po' bene potrà darsi che tornerò a chiederti come stai intanto io non guardo ma quindi cioè io torno quando mi sono nascosto sì facciamo così facciamo così sì 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 quindi ora vai ciao ciao e duniziani avete sentito cosa c'è stato mamma allora quando ci sono queste cose mi fa venire ansia io vi dico la verità mi sento davvero tanto in ansia perché praticamente mi stavo leggermente alte cioè nel senso mi stavo perché ho sentito dei rumori no in casa di gabri dovete sapere che lui ha il green ha una sorta di troll in casa sua ok ha un troll che praticamente non gli permette di vivere una vita normale cioè nel senso cosa succede ogni volta che lui si mette a registrare c'è questo troll che chiaramente può succedere duniziani può succedere a tutti quanti ops a tutti quanti a tutte le età anche praticamente questo troll cosa fa entra in camera delizio mi sono nascosto oh porca miseria ok va bene allora arrivo io gli stavo spiegando la storia del tuo troll che hai in casa perché è il mio troll esatto esatto allora praticamente adesso ti sto cercando e comunque sì perché praticamente tu hai un troll dicevamo che praticamente succede così no cioè va sempre finire così quando tu registri dimmi un po carino non so perché ho detto questa cosa sei nella casa del di angelo e chiara no ma stai mentendo no no non sto mentendo non puoi mentire lo sai no no ma non sto mentendo siamo siamo un gas lo so lo so ma non sto mentendo veramente cioè quindi allora praticamente non dovrei mentire cioè io dovrei dire dove sono nascosto è esatto sì se te lo chiedo sì ah ok va bene però tanto non sono nella loro casa ok va bene va bene allora ho trovato un signor creeper qua tu vedi un creeper da te per caso no ok va bene sì era un po no c'è una laurea che è andata che è volata ma come e che sarebbe le mucche le lauree va bene esatto sei libera rosalina vai e goditi che bacino che io ho dato ah queste queste mucche si stanno arrampicando dappertutto ma come ma cosa stanno facendo scusa ma io sono fuori cioè gabri sgridami sgridami perché ho fatto una cosa veramente terribile ci ho fatto nel video di dunis ma come io io ho fatto a te pensavo io infatti mi hai preso un colpo se sei così a casa no se lo fai tu vai direttamente a finire altro che col troll cioè proprio esatto con non lo so con le creature più demonie che che possano esistere sulla faccia della terra vediamo se sei per caso nella casa di antonix avvo quindi sei nella casa di antonix ho capito e non lo so io si sei nella casa di antonix allora qua ho trovato il signor pappagallino come stai signor vuoi che ti uccidessi ma cosa cosa succederebbe se io gli uccidessi il pappagallo ad antonix? avvo non lo so io ciao gabriel eh ciao ciao è stato così bello dunisiani ah che soddisfazioni adesso esci da questa casa e va bene vai subito lì perché io mi devo nascondere non guardare va bene va bene mozzeria quindi io me ne vado dalla stanza e poi come si dice poi vieni te nella mia stanza certo che tu sei proprio bravo a parlare esatto eh scusa scusa vengo io da te vengo io da te vai via va bene ciao ciao ma guarda te questo puzza dunisiani avere amici così a volte è veramente complicato da fare perché nel senso loro partono a parlare a raccontare non lo so che cosa poi raccontano cioè hanno 30.000 cose da raccontare non si sa ma poi chiaramente voi vi stufate dite ah ma dunis ma questi qua non stanno mai zitti giustamente giustamente ma avete ragione eh sì ma anche io lo dico siamo sulla stessa lunghezza d'onda siamo proprio vediamo le stesse cose che capito sentiamo le stesse cose a pelle che capito cioè nel senso dunisiani porca miseria siamo un tutt'uno che cosa strana che ho appena detto vabbè nel senso che ci capiamo proprio così di next capite eh dunisiani cioè nel senso cioè c'è da da capire meglio questa cosa perché praticamente non altrimenti non funziona non cioè eh eh ah però dunisiani sapete cosa siccome non ho voglia di restare eh fermo in un posto per troppo a lungo voi sapete come funziona con dunis dunis inizierà a disgaissarsi in qualcosa cioè nel senso mi trasformerò in un animale quindi adesso adesso facciamo così guardate prima di tutto cancello la chat per sicurezza perché sia mai che magari mostro qualcosa poi andiamo su e eh imbrogliamo quell'imbroglione eh cioè no anzi prima mi disga mi disgaissi per sicurezza da no da cosa da cosa mi posso disgaissare lunisiani io direi da no da delfino anche no mmm da ender dragon evitiamo magari ehm da fox però no le fox qua non hanno senso perché praticamente devo devo sembrare da cavallo circa dai circa ok adesso no magari però ho l'elitra così non va bene ok adesso vado su sentiamo questo puzzacchione cosa ha da dire puzzacchione Gabri ehi come stai ma salve quanto tempo sì è passato tanto di quel tempo che veramente io sono pronto eh comunque quindi posso cercare sì 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 tu puoi iniziare a cercare va bene va bene nei luoghi più più oscuri e cavernosi del mondo eh esatto esatto ops ho toccato il microfono per sbaglio scusate che do scusa a tutti quanti quelli che ci stanno guardando in questo momento che saranno sicuramente in tanti vero eh esatto esatto eh puzzacchioni ma certo che siete in tanti vero spero di sì per voi allora cioè no comunque mi sto avvicinando io cosa ne so scusami no che schifo no allora primo stai dormendo ma come stai dormendo io ho detto io cosa ne so tu dici no che schifo dopo mezz'ora eh ma come sì l'hai detto dopo mezz'ora allora cosa devi fare Gabri devo dire subito vabbè a parte questo ma poi dopo perché mi hai chiesto questa cosa se io manco so dove sei idiota cioè cos'è è come se io ti chiedi ah quindi non vedi il mio nome esatto ma come se io chiedo ad una persona che è dall'altra parte del mondo ero nella casa di Chiara e Angelo comunque ok è come se io chiedo tipo ad una persona che sta dall'altra parte del mondo ah sai sono vicino a te oppure no eh no perché magari pensavo che vedevi il mio nome ah beh certo questo vuol dire che comunque non sei vicino affatto però però ho trovato una porta aperta udio e potrebbe essere no non come l'ho detto non sei qui allora prima di tutti i balbetti ti sembra normale ma come sì fidati che Dunis non sbaglia mai comunque perché non posso mangiare mannaccia mannaggia allora Dunis non sbaglia mai su queste cose poi dopo devi sbrigarti a parlare mannaggia a te eh io mi sbrigo mi sbrigo devi dire frasi brevi va bene ogni volta comunque Dunis anni questi video sono un corso di di parlare di comunicazione esatto cioè veramente non è possibile cioè io non ti sto trovando eh beh nemmeno io ti sto trovando se per questo ah perché mi stai cercando no non ti sto cercando idiota però nel senso non ti sto vedendo perlomeno eh ho notato ho notato ah questo è un cavallo credo in che senso boh vabbè non lo so ho visto un cavallo strano che allora cosa intendi mi stai stai uccidendo il cavallo gabriel ho perso tutto come eh no sono qua le tue cose allora cosa hai fatto non volevo allontanati immediatamente da queste cose allontanati allontanati sì sì mi allontano mi allontano ho avuto la mia vendetta tunisiani se lo meritava se lo meritava assolutamente mai sfidare tunis in questo modo mai e poi mai no 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 che schifo che schifo lo dico io perché mi hai ucciso mi hai fatto perdere tutti i livelli quanti livelli avevo gavi anche io li ho persi eh meglio meglio fidati così è no più soddisfacente scusa ma come ti viene in mente di ammazzare un cavallo se lo vedi cioè potrei essere io nel caso ma perché era strano era strano quindi tu lo ammazzi no cioè quindi se tu vedi un cavallo nella vita reale no è un po' strano tu cosa fai lo ammazzi via ciao no tunisiani questo è a livello da fuori di io ve l'ho detto anche in altri video è proprio a livello di fuori di testa adesso te ne vai via e mi mi rinascondo ah quindi c'è ti nascondi di nuovo sì ma va bene sarà un turno flash ciao va bene ma vai a quel paese gavi va bene che poi si sente pure in modo strano avete sentito tunisiani tutti quanti hanno sentito no adesso cosa va in mente di fare tunis adesso devo fare slash effect give magari praticamente cosa perché mi serve questa cosa perché vorrei mettermi la pozione di invisibilità però ora che ci penso oddio cos'è sta roba false devo mettere ok penso che comunque le particelle non si vedono però io le sto vedendo come mai le sto vedendo non lo so se io invece faccio true oddio cosa sto facendo ragazzi è perché qua si devono fare queste prove tunisiane voi non sapete ma queste cose si devono fare ok adesso posso fare slash fly e beh a volte nella vita vanno provate queste cose per poi poter capire allora tipiamoci immediatamente no non tipiamoci assolutamente no facciamo così spostiamoci da lui gabri ciao eh ciao allora dimmi un po' come va la vita bene bene ok io sono pronto ah va bene quindi posso cercare si 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 tu cerca bene mi raccomando perché tunis deve capire ma c'è un'armadura vabbè diciamo che adesso vado a nascondermi di nuovo tunisiani allora io propongo di abolire gabri allora io ne stavo anche parlando con i tunisiani gabri io propongo di abolire te dal video no con me si adesso vai parti immediatamente eh parto posso cercare sì va bene va bene non so se si capisce tunisiani ma dunis è molto alterato in questo momento eh ho notato ho notato e mi prendi pure per il sedere per caso no 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 non lo farei mai ah ecco mannaggia te gabri seriamente mi sta mi sta facendo ah inalterare come una scrofa mannara allora adesso io sono nascosto nei posti più remoti quindi adesso tu va bene va bene mi fai il favore di muovere quel sedere va bene va bene dove sono adesso dimmi un po' ah non lo so io ti sto cercando più o meno cercami e mi prendi pure per il sedere tunisiani no guardate che io e voi ne abbiamo parlato e questo qua adesso deve allora scrivetemi la punizione per gabri nei commenti perché gli serve una punizione del genere no non mi serve a me una punizione del genere gli serve a gabri dovete però dovete dovete dirmi voi quale punizione tunisiani perché altrimenti io non so no please cos'era questa cosa no please allora poi fra l'altro tu stai parlando a bassa voce ma come adesso ho un altro conto gabri mannaggia ragazzi mi sto mangiando i pugni no no non ce n'è bisogno come un noggio lui adesso quando tua sorella allora io sto provando a cercarti tua zia ok non mi troverai mai perché sono invisibile e non si vedono nemmeno le particelle ok che schifo che schifo quindi adesso faccio slash effetto scusate dunisiani avevo leggermente dei travecoli cosa sto dicendo ma in che lingua sto parlando dunisiani ragazzi allora noi qua stiamo impazzendo però allora gabri facciamo un altro turno flash adesso tu ti nasconderai e io dovrò poi cercarti va bene va bene ciao allora vai lui si nasconderà in pochi secondi dunis non vedrà chiaramente ma lui non saprà che io utilizzerò che io userò questo comando qua e io saprò direttamente adesso vi dico io saprò direttamente quale tipo dove si nasconde perché io mi tipo adesso da lui eh solo non sono un genio io adesso mi tipo da lui poi gli dico ah gabri chissà dove sei chissà eh chissà gabri non si sa non si sa non si sa e poi dopo cosa va a succedere che lui dice ma come dennis non mi stai trovando ah 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 ok io ho fatto ho fatto ok 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 allora adesso inizio a cercarti mi raccomando e tu cerca di di fare cose allora donisiani in chat si vede una cosa chiamata the bad spada gabri scusa tu quando è che avresti denominato la spada di gabri in questo modo allora io 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 mi appello al diretto interessato se mai vedrà questo video se mai vedrà questo spezzone di video questo diretto interessato che tutti quanti sanno io sono anche un suo fan donisiani voi lo sapete io mi appello a lui e dico che gabri è un idiota l'unica cosa che gli è venuta in mente di fare io glielo ho detto di non farlo io glielo ho detto ma lui non posso metterlo ha detto vabbè fai quel che vuoi ma basta che non si veda nel video ma non è colpa mia però a quanto pare non è servito scusami scusami ma è colpa tua come gabri perché sei tu che hai denominato questa cosa o mi sbaglio cioè sei tu che hai denominato the bad spada una spada prima di tutto la spada cattiva e poi non vi dico nemmeno come si chiama la sua armatura eh donisiani veramente cioè proprio non si può dire comunque io non so se ti ho trovato ma come mi hai trovato dove sono non ne parliamo nemmeno guardate donisiani perché io vorrei continuare a parlare di questa cosa per mezz'ora però è lui che ci fa di mezzo ok non solo ti devi vergognare ok ti devi vergognare sì 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 ti devi assolutamente vergognare perché altrimenti non è possibile e ti dirò anche una cosa sì 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 ma gabrie è così ti dirò anche una cosa sono qua ti ho trovato ciao eh ciao come va è bene ah comunque mi sono dimenticato di darti il po' cibo è lì dietro pure oltre al fatto che mi ammazza da da cavallo mi prende mi ruba pure il cibo no donisiani io veramente non cioè non mi ero ricordato di prenderti il cibo sì di darti il cibo appure continua no continua dunisiani ok ok va bene io me lo segno nel diario dunisianico no che sto dicendo vabbè comunque dunisiani chiedo scusa per ciò che è successo in questo video perché avete visto The Bad Spada e spero per voi che non vediate altri altre altre cose meglio così chiedo scusa anche al diretto interessato chiedi scusa pure tu chiedo scusa ok perfetto perché semmai succederà che il diretto interessato veda questa cosa eh allora automaticamente mi sto imbarazzando troppo dunisiani ma non ci posso fare niente è una sua scelta come tale va rispettata no dopo tutto come dire le scelte non si possono negare no cioè nel senso poi dopo la responsabilità è di chi fa la scelta no di chi di chi è il canale no vero Gabri dopo ne parliamo io e te comunque no in modo ci sentiamo in un prossimo video ciao e iscrivetevi al canale lasciate like delle cose belle e scrivete cosa ne pensate di The Bad Spada nei commenti ci sentiamo al prossimo video ciao Dunisia ciao ti stavi schiaccando le dita vero no ciao Dunisiani adesso io lo faccio vedere io in